Nelle sue mani il legno diventa arte. Renato Rotoloni ha trasformato quella che un tempo era la sua occupazione, ovvero la lavorazione del legno, in una vera e propria passione. Così nel suo laboratorio a Monte San Vito raccoglie e dà forma al legno. La vita mia è stata in mezzo al legno, il profumo del legno. Poi è arrivato l'amore per la natura, che lo porta non solo a celebrarla attraverso l'arte, ma anche a preservarla, piantumando alberi come la Melia Zedarak, ovvero l'albero dei rosari, o ad abbellire l'ambiente, realizzando ad esempio questo murales celebrativo della natura per incentivare la raccolta differenziata. La passione dunque vissuta non come hobby, ma come messaggio da divulgare. La natura, la natura perché forse mi sono risvegliato un po' tardi, però la natura adesso mi dà grosse soddisfazioni. Vorrei dire che la mattina mi alzo, faccio un giro attorno a casa e quasi ci parlo con le piante, perché le vedo crescere. Il suo laboratorio è una sorta di museo celebrativo del legno e degli alberi, dove spiccano l'albero della vita, realizzato in occasione dell'Expo di Milano, e la riproduzione linea della palla di pomodoro. E poi tronchi che svelano la loro età e vari tipi di legno che racchiudono volti e immagini. Quando vedo il pezzo di legno già ci vedo cosa ci vorrei fare, lo trasformo o lo modifico, oppure ci faccio quello che ci vedo. Io all'istante vedo un ramo e vedo quello che devo fare.